Attivato dal mese il fondo da 140 milioni di euro per sostenere le attività di imprese e professioni che sono rimaste chiuse per legge in conseguenza delle misure restrittive per fronteggere il covid. 20 milioni di euro destinati ad attività come discoteca e sale d'abballo che potranno richiedere contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 25 mila euro. Il decreto interministeriale firmato dal ministro Giorgetti definisce criteri e modalità per richiedere il contributo. I termini per l'avvio delle richieste dei beneficiari verranno comunicati dall'agenzia delle entrate che potrà procedere con l'accreditamento diretto.